ciao catipiz ho deciso di fare questo video perché sentivo un bisogno impellente di fare un attimino il punto della situazione e mettere in chiaro alcune cose ovvie o meno su quella che è la nostra situazione attuale del gioco di carte e del gioco online come tutti voi certo saprete non ne ho mai fatto particolare mistero non sono esattamente un fan di quello che è il software che in questo momento la pokemon ha fornito per giocare il suo gioco ed è proprio di questo che vorrei parlare in questo video cercherò di fare il tutto il più brevemente possibile vorrei prendere il video in due parti una prima parte in cui spiego quelle che sono le mie motivazioni a riguardo cercando di fornire delle possibili soluzioni e in una seconda parte del video trarre delle delle conclusioni fare una riflessione su quanto detto e quello che ci aspetta per il futuro intanto ci tengo a fare quella che per me è un'importante premessa io mi permetto di fare questo video forte di due consapevolezze la prima che negli ultimi tre anni ho passato più di duemila ore su questo gioco e ed è un gioco che non gioco da soli tre anni ma da quasi una decina e secondo sono una persona che ama i giochi di carte e in generale non poco di poco online non è l'unico che ho provato ne ho provati tanti ne ho giocati tanti e con la forza di queste due consapevolezze mi permette di dire tutto quello che segue facciamo un attimo un salto indesimo nel tempo di circa una decina d'anni è uscito il software quindi il pokémon training game online ed è un simulatore di gioco che permette a tutte quelle persone che normalmente giocavano a card in a legal di portare la loro esperienza online l'avvento dei codici in tal senso è stata una rivoluzione enorme i codici sono riusciti a mettere in comunicazione il mondo delle carte in real con quello online perché trovandola il codice nella bustina immediatamente avevi la conoscenza del fatto che esisteva un codice quindi le carte facevano pubblicità al gioco online e le bustine e in generale tutto quello che potevi fare nel gioco online di rimando faceva sì che ci fosse una maggior conoscenza del gioco delle carte che fino a quel momento era molto legato a un semplice attore collezionismo e sono riusciti a fare questa enorme comunicazione nel modo migliore possibile tenendo fede quella che è effettivamente l'esperienza di gioco fisica e portandola online l'andare a prendere la bustina quindi ottenere il codice aprire quella bustina online mediante il codice vedere quale carta c'era dentro ampliare la tua collezione scambiare carte con altre persone che come te hanno aperto i codici tutto quello che normalmente veniva fatto in real i codici l'hanno reso possibile online dieci anni fa questa era una cosa incredibile sono passati dieci anni ora quello che all'epoca era un simulatore è diventato un gioco vero e proprio che necessita di un'identità sua a tutto il sistema dei codici deve necessariamente essere integrato un qualcosa che permetta ai nuovi giocatori di avere maggiore accessibilità al gioco i mazzi smacci non sono sufficienti sono straordinariamente utili per imparare a giocare imparare a giocare però è qualcosa che ti occupa qualche ora dopo di che vorrai per forza sperimentare quale cosa di tuo contro mazzi già costruiti e bisogna necessariamente implementare all'interno del gioco qualcosa che ha ai nuovi giocatori la possibilità di fare tutto questo ideale questa è la problematica che mi viene posta maggior frequentemente ed è credo quella che debba necessariamente essere affrontata con una maggiore urgenza come ho detto questo non è più un simulatore questa cosa che abbiamo tra le mani non è più il software che era stato creato dieci anni fa per dare la possibilità di provare questo ormai è un gioco vero e proprio facciamo sparire quella ladder è tra le cose più brutte che io abbia mai visto iniziamo con il separare le partite amichevoli da quelle classificate in questo modo chi vuole giocare per fan per divertimento per non perdere tempo può tranquillamente farlo in diversi formati accessibili e chi invece vuole competere per arrivare a essere il migliore del mondo di questo gioco online ha la possibilità di farlo che vengano create delle classifiche scegliete voi che nome darlo volete chiamargli oro argento platino volete chiamarli mega ultra master non è importante il nome l'importante è che vengano create delle classifiche in modo che i giocatori possano effettivamente competere su questo gioco in questo momento noi per cosa stiamo competendo la bustina di ultra prisma che ottengono per fatto 20 partite questo non è competere ok devono essere create le stagioni di lega devono essere fatti degli eventi devono essere fatti dei tornei devono essere rese uniche queste stagioni di stagioni di lega al fine di fare in modo che i giocatori possano voler competere ogni stagione per arrivare a poter dire essere sono il migliore in questa stagione giocare online e giocare in real sono due cose diverse non ha senso metterle insieme non ha senso metterle sullo stesso piano non ha senso fare finta che lo siano perché non lo sono ma questo non significa denigrare il gioco online questo non significa che non bisogna valorizzarlo il gioco in real è una cosa il gioco online è un'altra bene facciamo in modo che un torneo online ufficiale esista su questo gioco e che ti dia il titolo di miglior giocatore online che senso ha fare in modo che un torneo online ti dia come premio il viaggio al prossimo torneo in real io sto conoscendo tantissime persone che amano questo gioco semplicemente per come è fatto e che non hanno interesse a giocare in real perché questo gioco che potrebbe essere enorme fantastico già così è interessante ci vuole nulla renderlo qualcosa di fenomenale bisogna secondo me lavorare tantissimo su quella che è l'identità da dare a questo gioco perché in questo momento non ce l'ha in questo momento è qualcosa che era stato creato tempo fa e che non è stato seguito e che invece ha e potrebbe avere un potenziale enorme appurata questa cosa ci sono delle cose interni al gioco che secondo me andrebbero viste riviste e sistemate prima tra tutte e so che in molti non saranno d'accordo con me è la randomizzazione so bene che in molti non saranno d'accordo con me e no ovviamente non ho visto i codici del gioco tuttavia la quantità enorme di ore che ho passato a giocare a questo gioco la quantità enorme di partite e tutti i risultati che sono venuti fuori dalle partite che ho fatto mi permettono di poter dire la randomizzazione fatta male che cosa intendo con la randomizzazione fatta male primo il lancio delle monete non è un 50 50 se lanciate 4 monete ne escono 3 di una e una dell'altra quasi sempre se lanciate 10 monete ve ne escono tutte di un tipo e nessuna dell'altra e poi arriveranno esattamente il contrario se rimischiate una carta dagli scarti nel mazzo e poi pescate le carte che avete rimischiato saranno quelle che vi ritroverete in mano stessa cosa con il giraci dopo aver montato un mazzo non è accettabile il fatto che si parta troppo spesso con il pokemon che si ha in meno copie nel mazzo se invece si fa una modifica al mazzo non è accettabile che la partita successiva le carte modificate saranno tra le prime che ti verranno in mano non è accettabile il fatto che le carte salgano sempre a coppie o a 3 a 3 quante volte vi è capitata di vedere una qualunque di queste situazioni no? fateci caso alle prossime volte che giocherete e ditemi se vi ritrovate a pensarla anche solo in particolare vorrei che questo software arrivasse ai livelli d'eccellenza perché non è accettabile far giocare delle persone su un software che non è al momento in grado di dare questo livello non è... non c'è la possibilità di spettare i vostri amici mentre giocate e di conseguenza di farvi spettare non c'è la possibilità di personalizzare le partite amichevoli quante volte magari in Lega o anche solo per sentito dire avreste voluto provare dei formati di gioco diversi dal solito i Mutant Draft, gli Evolution Draft partite con solo 4 premi partite in cui giocate con 40 carte nel mazzo partite in cui giocate solo Pokémon di determinato tipo insomma personalizzazione di una partita amichevole alla fine servono a questo le amichevoli perché non dovrei poter scegliere di fare quello che voglio ultima nota puramente personale non apprezzo l'interfaccia grafica insomma non è fatta male ma è puramente sufficiente può sicuramente essere fatta male questi sono i difetti che secondo me ha il gioco sono assolutamente consapevole del fatto che la maggior parte di questi non verranno mai modificati e proprio in questo ci tengo a fare con voi una riflessione conclusiva molti di voi sentendomi spesso lamentare si saranno probabilmente chiesti ma se il gioco ti fa così tanto schifo perché continui a giocarci? ora mettiamo bene in chiaro una cosa io amo questo gioco questo gioco di carte Pokémon è la cosa che io preferisco al mondo ed è proprio per questo che sono così critico nei confronti di questo software ho provato tanti giochi credo che il gioco di Pokémon sia tra i migliori in assoluto per quanto concerne i giochi di carte e spero che ognuno di voi abbia soltanto la metà delle cose che mi ha dato nella vita a questo gioco proprio perché sono così tanto attaccato a questo gioco mi piacerebbe che il software che lo porti in gioco sia il meglio del meglio del meglio che non possa esserci nulla di attaccabile ed è per questo che sono così critico e severo perché in questo momento non mi sento che lo sia mi rendo conto tuttavia che per chi non mi conosce non conosce il mio stato d'animo sentire semplicemente queste parole uscire dalla mia bocca possano dare l'impressione sbagliata per cui con oggi, con voi, mi voglio impegnare ufficialmente a cambiare quello che è il mio modo di essere e vivere questo gioco non so bene come la pensate voi ma dubito che a breve o meno torneremo a giocare in Unreal per cui volenti o volenti questo software è tutto quello che ci rimane e sostanzialmente deve andare bene ho provveduto a mandare una mail alla Pokémon con questo video e vi invito a fare lo stesso per cercare di attirare l'attenzione di quante più persone possibili che possano effettivamente intervenire per modificare e migliorare questo gioco tuttavia in attesa che qualcosa si muova la cosa migliore credo che sia per me diventare il cambiamento di me stesso per questo con oggi mi impegno sull'elemente a tenere un atteggiamento più positivo in tutti i modi nei confronti di questo gioco nelle live, nei video e esattamente come si fa con i bambini quando gli si vuole insegnare a non dire le parolacce anche io cercherò di usare lo stesso metodo ogni volta che mi vedrete e mi sentirete nelle live impazzire contro questo gioco io regalerò un codice agli abbonati per ogni volta che avrò perso il controllo in tal senso vi chiedo aiuto vi chiedo aiuto perché me lo facciate notare senza esagerare, non approfittate ovviamente di questa cosa è un percorso volto a cercare di migliorarmi e nel tempo stesso sperare di fornire qualcosa anche a voi per cercare di avvicinarvi sempre più e il meglio possibile a questo gioco credo di aver parlato davvero davvero tanto e grazie di avermi ascoltato voglio sapere che cosa ne pensate a riguardo siete d'accordo con quello che è il mio pensiero? non siete d'accordo? fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti scrivetemelo in privato se volete, come volete io sono come sempre disponibile ad ascoltare e rispondere a ognuno di voi spero che rimanere fino a qui e ad ascoltarmi sia stato di vostro gradimento così forse raga mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con un Ale rinnovato nelle prossime live e nei video ciao Caterpiz iscrivetevi al canale